Musica Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Minecraft, su Clash of Clans Non l'ho capito neanche ancora io sinceramente Diciamo che siamo tornati nella serie in cui cerco di ricostruire il mio villaggio di Clash of Clans su Minecraft Ho visto un descritto interesse nel primo episodio in cui abbiamo costruito questo municipio di livello 11 Se non ve lo siete ancora visto andatelo a cercare perché è il primo episodio Ma per l'appunto il video è piaciuto, l'idea è piaciuta e quindi riproponiamo il secondo episodio In cui andremo a costruire, come vedete ha il titolo, le torri infernali Sì, perché ce ne sono due e quindi bisogna farne due Allora, 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 io qua ho una screen del mio villaggio, della mia formazione E devo cominciare innanzitutto a prendere un paio di misure Infatti io so che tra il mio municipio e la prima torre inferno c'è una striscia di mura Io sto cercando, nei limiti del possibile, di tenere delle proporzioni Per chi si ricorda avevo detto che una casella di Clash of Clans corrisponde a una casella 2x2 di blocchi su Minecraft Quindi all'incirca se io devo andare a fare delle mura Dovrò fare delle mura non di un blocco ma di due blocchi per due Dai proviamo a fare un tentativo di mura con le scalette in quarzo e magari dei blocchi d'oro Voglio fare una cosa molto semplice, premetto, giusto per capire che cosa verrà fuori, di che cosa stiamo parlando Ok, questo è il risultato A parte che esteticamente non mi piace, ma ripeto, non guardiamo il lato estetico Stringge troppo sul municipio E quindi, per creare il mio villaggio in maniera fedele Può essere un controsenso detto così Dovrò andare a stravolgere leggermente le proporzioni che mi sono dato Cosa che tra l'altro ne avete fatto notare nei commenti o già fatto Perché il municipio non è un 5x5 come ho detto nel video Ma è un 4x4 Me ne sono accorto anche durante l'editing Ma un conto è correggere una frase quando edito Un conto è correggere una struttura intera E quindi ho dovuto tenerla così anche perché rifare tutto mi spiaceva un pochettino È rimasto, non dico benissimo, ma abbastanza bene Quindi in poche parole mi ricimento con un altro tentativo di mura Anziché 2x2 e 3x3 Sì, sono mura un pochettino enormi Però magari non facendole troppo alte riesco a compensare la cosa Ok, sì, forse è una scelta più saggia Perché come potete vedere è comunque molto stringente sulla struttura Ma le lascia un po' più di respiro Nel senso, soprattutto visto dall'alto Ha mantenuto la sua forma Si capisce ancora che con l'entrata Prima proprio l'entrata non si vedeva più Ok, allora ho provato ad aggiungere delle bottele di ferro E il risultato è decisamente migliore Sì E l'unica cosa è che pure per i muretti abbiamo tra virgolette Sballato la proporzione Cioè prima vi ho detto Una casella di Clash of Clans corrisponde a due caselle di Minecraft E il municipio era un 4x4 E anziché essere 8x8 l'abbiamo fatto 10x10 Il muro era 1 e quindi doveva essere un 2x2 E invece l'abbiamo fatto 3x3 E quindi a rigore di logica La torre inferno che rimarrà esattamente dietro il municipio Non sarà un 2x2 Perché lei di base è un 2x2 Non sarà un 4x4 Che è teoricamente la proporzione che dovremmo rispettare Ma sarà un 6x6 Vediamo un pochettino Mi sembra proprio di sì Sarà un 6x6 Allora adesso l'unica cosa sicura È che di base noi metteremo della lava L'unica cosa che so Infatti la torre inferno è una costruzione particolarmente piena di dettagli E questo è inutile dirlo Penso che la conoscete tutti E quindi mi immagino come diavolo la realizzo una torre inferno io Come al solito cerco delle immagini così su internet Per capire cosa ci può essere Vabbè direi delle iron bar Sicuramente per fare le catene Come abbiamo fatto nell'ultimo video Del vetro come? Proviamo nero Per fare l'ampolla di l'isir nero Che ha la torre inferno Non so se avete mai notato che ha un'ampolla dove viene ricaricata Poi ci serve un materiale Pietroso ma scuro Oddio Si potrebbe usare l'ossidiana La bedrock anche perché no La semplice cobblestone Ma anche no direi Questa Questo brick rotto potrebbe essere carino Anche questo brick potrebbe essere carino Come anche il nether brick No però quella tenda al viola quindi no Il micelio anche potrebbe tornare utile per qualche dettaglio Il magma blocco Il magma blocco è fatto proprio apposta Secondo me per questa costruzione E altro per il momento non ne ho idea Vado un po' a tentativi ragazzi Io parto con un pillar Fatto con questa pietra Che secondo me Di base riprende abbastanza la torre inferno all'interno Quanto farla alta? Eh questa è un'altra domanda A un milione di dollari Io direi di farla alta almeno Come il tetto Così si del municipio Siamo almeno Un blocco sopra potrebbe andar bene Sì Sembrerebbe di sì Allora proviamo ad andare con la bedrock In questa maniera A fare una sorta di piedistallo Se così vogliamo chiamarlo Mettiamo del micelio magari qua Attorno a torre inferno Sì è vero Stiamo uscendo da quelli che sono un attimino i nostri Non so Limiti Però Ci può stare Abbiamo lo spazio Sfruttiamolo Ok La base comincia a convincermi un pochettino Adesso cerco di fare Per quanto sia fattibile Delle catene Ok Saliamo così Saliamo così Ok 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 Queste sono le catene E hanno abbastanza senso Tutto sommato In teoria da questo lato Dovrebbe rimanere In questa maniera Il Deposito di lisir Nero Bisogna farlo con qualcosa Che Lo metta un po' più in risalto Fosse già solamente una botola Anche il legno Pazienza Allora proviamo a mettere tipo una botola sotto E una botola sopra Potrebbe già avere più senso Anche se si potrebbe mettere direttamente un tappetino Solo sopra però Perché Sotto non ha senso Cioè più che non ha senso non ci può proprio stare Delle slab Di sandstone Ma Insomma Visto così Mi ispirava di più la botola Delle slab di quartz Invece Proviamo a tenerle Perché teoricamente Riprendono Il La decorazione che andiamo a fare adesso Infatti Teoricamente Qua bisognerebbe fare Delle scale Eh Le facciamo Così Proviamo un attimino E posso confermare Ci stavano meglio le botole qua Assolutamente Sì Il legno Stona Ma Ha più senso così Secondo me Al limite Ci rimettiamo qua il carpet Sì Adesso andiamo a rialzare anche qua con le scalette In questa maniera Poi teoricamente con i ganci potremmo fare delle decorazioni del genere E poi teoricamente da qua dovremmo fare con il giallo Vediamo se il giallo ci sta bene o è meglio l'oro No ok qua ci sta meglio il giallo Magari aggiustiamo anche con i carpet Ok Una roba del genere No però aspettate non Carpet ovunque come ho fatto io Ok Poi mettiamo qualche blocco anche qui Veramente è complessissima sta cosa Sto andando di fantasia ragazzi Ma è veramente una roba complicata Anche perché adesso arriva il bello Infatti in questa piccola area che mi sono creato Devo farci stare Un Cerchio Come è possibile Proviamo così Allora Proviamo a fare una roba del genere Perché io ho le torre inferno su obiettivo singolo Se non lo sapete ancora E oddio sì Più cerchio di così credo che non si possa fare Possiamo farlo ancora uno più alto Sta diventando tipo una torre altissima Però ci sta Ci sta ancora E qua adesso bisogna andare A smanettare con il vetro Eh tipo una roba del genere Forse con qualche sfumatura in più Rossa Tipo così Ok E questo bene o male è il primo risultato È enorme Quell'anello È veramente enorme Però Più piccolo di così Non si può fare fisicamente Ma il bello adesso è capire come fare L'altra torre inferno Perché va riprodotta Ma leggermente girata Per non fare due cose proprio uguali identiche Nel senso sono comunque due delle difese più importanti Cioè è una delle difese più importanti La torre inferno Quindi Dedichiamoci un po' più di cura E il problema È anche che Nella mia formazione Tra le due torri inferno C'è la eagle La eagle è un'altra struttura complessissima Che non facciamo di sicuro oggi E che comunque sia Rimane tra queste due torri Quindi io devo già capire Quanto spazio mi servirà Per fare la eagle Allora teoricamente Tra la eagle E la torre inferno C'è un blocco Noi teniamone due Ok E in questo punto Teoricamente Comincia la eagle Allora la eagle Deve avere le stesse dimensioni del municipio Quindi due Quattro Sei Otto E dieci Ci siamo? Ci siamo Ok Quindi uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove E dieci Facciamo la diagonale Per essere sicuri Di aver fatto le misure giuste Ok E questo All'incirca È La base Che probabilmente Useremo nel prossimo episodio Per fare la eagle artillery Quindi uno Due blocchi Qua comincia la torre inferno Ok Le misure Le facciamo Esattamente come prima Ok Ok Si mi sembra che ci siamo Bene o male Però per sicurezza Magari continuo il muretto Così comincio già A chiudere Questo gruppo Di Di strutture Allora Cominciamo con la lava Partiamo poi con il micelio Per fare La decorazione Qua attorno Ok Il micelio serve anche Per dare un po' più di forma rotonda Se notate E vabbè Poi così via ragazzi Non vi sto a far rivedere Tutta la costruzione La rifaccio E vediamo cosa esce fuori Allora Sono agli ultimi dettagli Qua Sul Deposito di ricarica Del laser nero E Nulla Questo è Il risultato Molto Molto Carina Ragazzi L'ho speculata Di qua A qua Non ho fatto un copia E incolla Tenendo proprio La stessa prospettiva Ma l'ho ruotata A 180 gradi Se ci fate caso E' stato un casino Perché Ci abbiamo messo Anche se non sembra Tanti tanti dettagli Però devo dire Che il risultato E' soddisfacente Anche questa volta Sono Abbastanza contento Voglio vedere Come ci infilo Una eagle artiglieri qua Lo scopriamo poi Nel prossimo episodio Però Ripeto Sono soddisfatto Dai Non era facile Non era assolutamente facile Perché E' una costruzione Due per due E da riprodurre E' stato Parecchio Complicato Ad ogni modo Io come al solito Direi che Posso salutarvi No beh aspettate Quasi dimenticavo Shaders time Eccolo qua No Il vetro Fa le ombre Ma che figata Ragazzi E no Scusatemi Scusatemi Prego Signori Vi faccio vedere Un po' di angolazioni Un po' di punti Di visuale Di Stretoro Inferno Con la shader Che rendono Dieci volte di più Ma guardate Con il sole in prospettiva Che roba Cazzutissima Oh mio dio Sembra un film E anche Il deposito nero Sembra Un pochettino Più denso Vedete che Non ci sono le righette Adesso si Che ha più senso Wow Veramente Quando ho pensato Di mettere la shader In questa serie Penso di aver Avuto un'idea geniale Modestamente Comunque sia Se volete vedere Gli ultimi video Che vi ho sfornato Li trovate qua Nelle schede E in descrizione Vi lascio il link Per Instagram Il link Per le magliette Il link Per il link Di Telegram Sì perché adesso Abbiamo anche un gruppo Telegram In realtà già esisteva Però l'avevo un attimino Accantonato Adesso Ho creato Una situazione Che se voi Entrate in questo Gruppo Telegram Che vi lascio qua sotto Praticamente Riceverete Le notifiche Dei miei video Istantaneamente Cioè Se voi Entrate in quel gruppo Telegram Avete Un'efficienza Di notifiche Più alta Di attivare La campanellina Delle notifiche Perché comunque Se la campanellina Delle notifiche Impiega un minuto Due minuti Tre minuti Col gruppo Telegram Alle 5 Spaccate Vi arriva Il messaggio Provate per credere Ah e soprattutto Arriva sempre Non è che un giorno Mi dimentico Cose Credetemi Arriverà sempre Puntuale alle 5 Da questa parte invece Trovate il video consigliato Il link Per iscrivervi al canale E il link Per iscrivervi A Boxit Il mio canale di recensioni Io come al solito Vi ringrazio Vi saluto E ci vediamo domani Ciao Ciao